Nelle ultime settimane si sono susseguiti gli interventi pubblici a garanzia dell'accordo di programma per l'area di crisi locale. Il ministro Adolfo Urso, senza timore di smentita, ha riferito che sarà prorogato nuovamente. La scadenza finale sulla base dell'atto integrativo del settembre, due anni fa, è fissata per oggi. Il 23 ottobre, infatti, è il termine ultimo. Si è in sede di gruppo di coordinamento e controllo, sia a livello ministeriale. Si ritiene che i fondi rimanenti per circa 21 milioni di euro non saranno persi. Ministero e Regione, fino ad oggi, hanno sempre confermato il budget destinato ai progetti di rilancio del territorio alternativi a quelli di Eni. Dopo due avvisi, entrambi coordinati da Invitalia, il borsino parziale segna solo un investimento concretizzato per il ciclo del packaging. Nel secondo step, ancora in essere, sono cinque le proposte in istruttoria e una ha ottenuto tutti sì per il finanziamento. Per il resto, nient'altro. Alla riunione del gruppo di coordinamento e controllo, tenutasi un mese fa, hanno partecipato il sindaco Di Stefano e l'assessore Franzone. L'amministrazione comunale vorrebbe concretizzare progetti per coprire integralmente il fondo da 21 milioni per il momento quasi del tutto inutilizzato. I progetti scarseggiano, come sottolineato dai funzionari regionali. I tempi sono spesso lunghi nelle attività istruttorie e manca uno sportello locale dedicato alle imprese e ai gruppi intenzionati ad investire. La legge 181 non pare lo strumento migliore per incrementare le proposte progettuali. Oggi, quindi, scade proprio l'ultimo giorno dell'accordo di programma, almeno per quanto riguarda la proroga concessa due anni fa. A dieci anni dalle intese per la riconversione del sito Eni, gli investimenti alternativi non si sono visti. Perdere i 21 milioni sarebbe l'ennesima beffa che probabilmente il governo regionale e quello nazionale cercheranno di evitare. Il bilancio attuale non è favorevole e l'impalcatura normativa dovrà essere rivista in profondità per cercare di dare aperture ai progetti.